E allora, valorose truppe, non ci rimane altro da fare che scegliere il campo di battaglia più congeniale... Io avrei un'idea. La dica, soldato Parkington. Che ne dite di sfidarli a una gara di scioglilingua? Sì, ho una trovata geniale, un torneo di bullying. Sinfonia di foglio le siamese, ma dove avete la testa? Io suggerisco di prendere una scala, aspettare che la vecchia esca e arraffare il pennuto! Calma, ti respira a fondo, Silvestro.